Ma perché Silvio va via con altre persone che non conosce? È un modo per dirci che non si trova bene con me. Sono venuto a mettermi tutti i cd nel jukebox, ma mi sono dimenticato di farmi dire come funziona. Come devo fare? 105, 151, 01. Mio Dio se ce lo fa... Oh mio Dio! Ma dove? Hai visto Silvio? Hai visto? Adesso dovrebbe andare. Esatto. Ti piace la canzone? Fedez oggi trascorre il tempo con il suo amato cagnolino, Silvio. Durante i vari impegni di lavoro, il cantante porta sempre con sé il suo fedele amico a quattro zampe, dimostrando un legame speciale. Una volta tornato a casa, Fedez si rilassa mettendo della musica con un jukebox antico della Marshall, un vero pezzo d'epoca che riesce ancora a far funzionare perfettamente. Il suono vintage riempie la casa e Silvio, il cagnolino, sembra apprezzare la musica tanto quanto il suo padrone. Questo rituale musicale non solo allieta le serate di Fedez, ma rinforza anche il legame affettuoso con il suo cane, creando un'atmosfera calda e rilassante dopo una giornata piena di impegni. L'hai visto? Adesso dovrebbe andare. Esatto. Ti piace la canzone?